ragazzi vi ricordo assolutamente di iscrivervi al mio canale ben il 94,7% di voi non è iscritta mentre solo il 5,3% è iscritta non mi raccomando ragazzi cliccate sul bottoncino rosso iscriviti è semplicissimo grazie a tutti per il supporto mi raccomando ragazzi adesso passiamo al video buongiorno a tutti sono Federico Pastorello agente di Federico Bernardeschi e Arthur siamo qui oggi a Torino per sorteggiare le lingue che faranno parte dei gironi il forman prevede che ci sono 5 gironi da 4 squadre ciascuna passeranno le prime due di ogni girone quindi saranno 10 squadre si affronteranno in uno scontro sia all'andata che al ritorno a quel punto saranno 5 squadre 5 squadre la prima che perde esce tra quando si giocheranno i 5 round rimarranno 4 squadre semifinali e finale detto questo passiamo alla parola il dirigente Beppe Marotta vedo speriamo che l'UEFA non faccia cavolato sorteggiare perché è la pallina sbagliata perché l'abbiamo visto in questi giorni molti sbagli da parte dell'UEFA e quindi speriamo che non ci siano errori parlo io dirigente dell'Inter ex dirigente da Juventus non so cosa significa adesso passiamo al video ciao ragazzi e benvenuti ai sorteggi delle lingue come avrete visto da questa intro molto molto strana oggi siamo qui a sorteggiare e i due sorteggi quelli che sorteggeranno saranno appunto Federico Pastorello e Beppe Marotta la pesca allora intanto vi faccio vedere aspettate un attimo vi faccio vedere un attimo allora allora andiamo così allora ok aspettate un attimo solo eccoci qua Federico Pastorello che inizierà a estrarre la prima lingua vediamo un po' la prima lingua o il la lingua 18 ok che poi vi spiego bene cos'è va nel girone a vediamo un po' l'accompagnerà perché l'accompagnerà vediamo un po' l'Olanda la lingua olandese se avete visto sempre nel girone A girone A terza squadra pesca sempre Federico Pastorello in questo girone via un po' la tutta la lingua ma dai lingua 16 via un po' se vedete un attimo ok chi va ah scusate un attimo no la pena ok peschiamo l'altra squadra l'ultima di questo girone vediamo un po' chi è allora oh si apre sto biglietto non si può aprire la lingua turca quindi questo girone è formato da lingua 18 che sono le lingue tipo cinese strane la lingua olandese la lingua 16 e la lingua turchese no non si dice mai così ok girone B pescherà Beppe Marotta vediamo un po' quello che pesca allora vediamo un po' se sto bigliettino si apre la lingua 2 tutte le lingue probabilmente si sono bruciate allora ovviamente non sto vedendo ok poi c'è i suomi guarda un'altra tutte lingue strane ci sono aspetta vediamo un po' se me lo metto a fuoco non penso ok altra lingua vediamo un po' di chi è è là aspettate scusate un attimo allora l'inglese attenzione l'inglese ultima lingua in questo giro nei B sempre Beppe Marotta a pescare no questo è un po' uno mi è scivolato perché il tedesco girone di fuoco ma può succedere qualsiasi cosa tedesco ok girone C Federico Pastorello andiamo un po' la lingua 17 ok andiamo un po' il prossimo a pescare e che la aspettate solo un attimo che devo un attimo vedere perché questo bigliettino la basa M che poi vi lascio vedere tutto poi prossimo allora lingua se leggo bene 4 vediamo un po' se le scuole riconosce lingua 4 ultima vediamo un po' attenzione portoghese cr7 portoghese quindi questo girone formato lingua 17 lingua 4 basa M portoghese quarto girone sarà Beppe Marotta pescare quindi c'è una sorpresa piccim è la prima lingua piccim aspettate un attimo che ve la metto a fuoco direttamente forse così è meglio no no ok forse per un mezzo secondo ve la messa a fuoco poi altra lingua via un po' perché il francese i francesiani anche che le lingue quelle più conosciute per amici assolutamente questo torneo questo ve l'ho messo a fuoco ok altra lingua e la lingua 3 le lingue sono finite quasi lingua 3 e un po' prossima il tiang viet ah no il tiang viet tipo questa lingua qua ok non mi fate domande sulle lingue ultimo girone aspetterà questo è manco da ciò prendere bene su un attimo ah il norsk il norsk poi sarà la lingua 15 vediamo se ve la mette ok la lingua 15 ed è tutto questo è pescato da bernardeschi se non la pesce tepito dopo c'è il bahasa i vediamo se me lo metto a fuoco forse per un mezzo secondo sì e poi l'ultima lingua è l'inu ma forse diventa 4 aspettate perché lo spagnolo è stato pescato no sono 4 8 12 16 20 sono tutte aspettate un attimo che faccio un check che faccio un check Grazie a tutti